Allora, va bene, mi hanno detto che dovevo provare i suoni, le voci, adesso a questo punto presento anche il festival, non l'ho mai fatto e faccio anche questa. Allora, va bene, allora, allora, io però non so bene che cosa, un attimo che cerco, allora, vediamo un attimo. Allora, spegnere le luci, c'è scritto qua, poi, lotteria, premiazione, c'è anche scritto chi ha vinto il festival, ma non ve lo dico, non è vero, è una battuta. Allora, spegniamo le luci, qui c'è scritto qualcosa ma è incomprensibile, sicuramente l'ha scritto Davide Ridolfi, perché scrive come un tacchino, non si capisce. E quindi, vediamo se la regia mi può aiutare, sapete voi cosa c'è adesso, regia? Sapete cosa c'è adesso? Mi mandate qualcosa, allora mi aiutate, perché qui non si capisce nulla. Un balletto, mi dicono, giunge dalla regia un balletto, benissimo. Abbiamo una presentazione? Qualcuno ha detto... lo so, non faccio finta, non è che ne basta. Però sono stato bravo, se mi avete creduto. E che mia moglie mi conosce, pensa che sono ingornito, ma è vero. Allora, Lillo, mandala alla base. No, 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 Lillo, non manda a me. Che tristezza, no? No, questa roba qua, no, 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 via, via, via. Cosa deve mandare Lillo? Lì, la slide, mi dicono. La slide, quella dei maiali, guarda, che facevano. C'è la slide? Non c'è. Allora, se spegniamo le luci, a sto punto qui non si capisce più, vediamo, a sorpresa, mi dicono un balletto, corpo di ballo, vediamo cosa scappa fuori. Buon divertimento, riprendiamo. Signora, sì, signore! Buon divertimento, riprendiamo le luci, a sto punto qui non si capisce più, Escrivmo! Buon divertimento! Buon divertimento! che il my party già arrivò con il suono e con il fronco saque, saque amanezca, here we go che qui nada si è accaduto, che arriviamo prima dalle che già arrivò la fiesta pal Caribe, vabbiamo di fiesta pal Caribe, viviamo con la fiesta stai baiando, bando, saque amanezca con la mano para arriba te voy a dar este ritmo solo para ti para probarte que tu nada va a ir a ir entra a la fiesta, te sientes de una energia toma mi sonso, la vez que tu vas a ir here we go che il my party già arrivò con il suono e con il fronco saque, saque amanezca, here we go che qui nada si è accaduto, che arriviamo prima dalle che già arrivò la fiesta pal Caribe, vabbiamo di fiesta pal Caribe, viviamo con la fiesta stai baiando, bando, saque amanezca la mano para arriba andate se vedi a gloria per la fiesta la fiesta ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fernandez, direttamente da Nacona da Tiberio, giusto? Fernando! Direttamente da Nacchisti, gruppo alberghiero, Patrizia! Direttamente da Lebefano, negozio Penny Black, Lori! Bravissima! La straniera del gruppo San Marinese, Laura! E ci vuole anche un tocco d'esotico! Direttamente dal Salento, Valentina e Ada! Alle! Direttamente da Via Pianazzo, Davide! Non ne ho indovinato uno di passo, eh? Uno! Eh, purtroppo! E la coreografa disperata, Silvia! Signori Silvia! Potete scendere, abbiamo dato! Aspetta che recuperiamo le cartellette e con grande vergogna che riprendiamo la serata! Allora, invitiamo la grande orchestra dotata di muscoli sopraffini perché lui...